In bocca aveva nascosto quattro dosi di cocaina, altri grammi di hashish invece in tasca, ma non solo, con sé aveva anche un cellulare di lavoro, ovviamente illecito, con tanto di lista dedicata all'attività di spaccio. È così finito in manette un 35enne marocchino. A notare il pusher nel quartiere di Saioni, in via Largo Tevere, gli agenti della volante e del personale del reparto prevenzione crimine della Toscana. Alla vista delle forze dell'ordine, infatti, il 35enne ha cercato di nascondere in bocca quattro piccoli involucri, tutti contenenti cocaina, per un totale di 20 grammi. Altra droga è stata poi trovata anche negli abiti, circa 5,5 grammi di hashish. L'uomo con sé aveva anche due cellulari, uno con una lista di clienti da rifornire. Il 35enne con precedenti è stato ovviamente arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta del secondo arresto nel quartiere di Saione, a seguito dell'operazione Duomo Vecchio, a conclusione della quale erano finiti in manette 41 pusher. Non si allenta, infatti, la stretta sullo spaccio in città, in particolar modo nelle zone più calde Saione, parco del Colle del Pionta. Proprio nell'area verde, ieri pomeriggio, una donna, una 39enne sudamericana, è stata soccorsa dopo essere stata malmenata sul posto 118 con l'ambulanza e gli agenti della polizia di Stato, un episodio che potrebbe inquadrarsi nel mondo dello spaccio. La donna risulterebbe, infatti, tossicodipendente e sarebbe andata al Pionta nel tentativo di recuperare il cellulare che le era stato rubato il giorno precedente da un uomo straniero che ieri pomeriggio però l'ha colpita. L'uomo è stato già individuato dai poliziotti, la 39enne invece è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo per le cure del caso in codice verde.